Finalmente si torna a sorridere anche al Degli Ulivi, l'Andria ha conquista la prima vittoria battendo per 1-0 la Turris dopo una partita sicuramente sofferta ma meritata come successo. Sì certo, è stata una partita comunque di grande cuore e determinazione, ci volevano i tre punti, volevamo i tre punti e tutti i costi. Penso che questo deve essere un punto di partenza per la Fidelis, sia da parte nostra che da parte dei tifosi. Dobbiamo cercare di continuare così e ne vedremo delle belle sicuramente. Oltre alla crescita caratteriale è un gruppo che diventa sempre più compatto e lo dimostra il fatto che non si è subito anche gol. Certo, l'importante è la solidità della squadra, più trovi compattezza a livello difensivo e poi nella parte realizzativa sicuramente faremo molto meglio. L'importante è essere compatte tutti insieme, che si vedrà comunque piano piano, che anche i gol arriveranno da parte degli attaccanti e di tutta la squadra. Cresce anche il rendimento di Zampano? Sì, diciamo piano piano bisogna mettere i minuti nelle gambe, bisogna mettersi comunque in discussione tutti per cercare di migliorarsi. Non mi sento ancora pronto al 100%, però lavorando con il lavoro e con la giusta determinazione durante la settimana potrei arrivare comunque al 100% molto presto. Condizione psicologica sicuramente migliore con la vittoria conquistata e sabato c'è uno scontro diretto contro il Latina. Certo, diciamo è una partita fondamentale, venivamo comunque da settimane in cui tra virgolette non ridavamo e rispirevamo un'area pesante. Ora con la vittoria e con la Turris sicuramente riusciremo a essere più positivi e a preparare le partite anche in modo più spensierato, che è la cosa più importante. Grazie a tutti.